domanda che rapporto c'è tra i fratelli dello spazio e noi ci osservano come noi osserviamo una cultura di batteri damma pada domanda nel damma pada è scritto un'azione scorretta quando a ripensarci proviamo rimorso piangendo di rammarico si colgono i suoi frutti un'azione corretta quando a ripensarci non proviamo rimorso nella gioia si colgono i suoi frutti che cosa significa che tutto ciò che accade per il fatto stesso che accade produce evoluzione albertus magnus domanda ho letto che il domenicano alberto magno che ebbe come discepolo tommaso d'aquino percorse a piedi secondo le regole del suo ordine tutta la germania fino all'estrema vecchiaia come predicatore della crociata se era veramente magnus perché predicava la violenza in nome di dio perché la sua religione allora era ancora giovane per questo adesso alcuni seguaci dell'islam uccidono in nome di dio